Scorciak è stato un grande educatore, un grande pediatra, un grande telegogista polacco che negli anni 30 ha scritto la carta magna dei diritti dei bambini che è direi più avanzata della stessa convenzione. Uno degli articoli della sua causa è che i bambini hanno diritto a protestare di fronte all'ingiustizia. Noi oggi stiamo assistendo a un'enorme indirizia che è quella dell'ignoranza degli adulti rispetto alla convenzione dei diritti dei bambini e quindi al tradimento delle promesse fatte 30 anni fa. Nell'articolo 42 si dice che gli stati si impegnano a che i contenuti di questa convenzione siano ampiamente conosciuti con mezzi adeguati tanto dagli adulti che dai bambini voglio sperare che l'occasione del trentese universario sia un'occasione per fare qualcosa in questo senso ma quello che mi interessava di più era di farlo sapere ai bambini. Ho scritto un libro che ho intitolato, un piccolo libro, Manuale di Guerriglia Urbana per bambine e bambini che vogliono conoscere e difendere i loro diritti scrivendo ai bambini di diffidare di noi. È stata una scelta dura perché non è facile per me, adulto, per riconoscere di aver tradito le promesse che abbiamo fatto. di diffidare degli adulti, di controllarli e di protestare quando si nota che non stiamo rispettando le promesse fatte. E ho invitato i bambini a farmi sapere quali saranno le loro battaglie sperando dentro un certo tempo di avere da loro delle indicazioni e poter scrivere un libro collettivo io con i bambini.